Per oggi una gustosissima frittata di patate e peperoni. Vediamo come preparare. Per prima cosa sbucciate le patate, le tagliamo a dadini con questo attrezzo, altrimenti con un coltello. 30 minuti in acqua fredda e poi li friggiamo. Li scoliamo e li mettiamo da parte con il sale. Soffriggere la cipolla, aggiungere i peperoni, un po' di sale, fiamma bassa e facciamo ammorbidire. In una terrina sbattere le uova con sale, pepe, parmigiano e foglioline sminuzzate di basilico. Aggiungiamo tutte le patate e in più aggiungiamo anche i peperoni. Mescolare molto bene con l'aiuto sempre della forchetta. Adesso trasferite il tutto nella padella con dell'olio. Facciamo cuocere 10 minuti per lato a fiamma media. Come potete vedere questo è il risultato finale. C'è un profumino fantastico. Provatela e fatemi sapere se vi è piaciuta. Potete sostituire il parmigiano con del pecorino ovviamente.